Pronti? Sì. Ok. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Oggi vi spieghiamo i biscotti. Facciamo dei biscotti decorati. Sì, questo pezzo dove la mamma ingratta tutto lo cancelliamo, vero? No, lo sto facendo. E sta finendo. No, no, è ancora pieno, a te lo pare. No. Meno è, meglio è. Sì. Eh, succede. Secondo me devi stare un po' più distante tra uno e l'altro. No, perché vuole fare la stessa. Cosa avevi là dentro? La cannella. Ho messo unicacchi. Che poesia. È bellissimo. È buco. Ti piace? Sì, bello. C'è scritto il mio nome. Sì. Auguriamo a tutti buon Natale. Ciao a tutti. Ciao.